C'è anche un gelese tra i vincitori dell'ENI Award del 2020, il prestigioso riconoscimento che è divenuto negli anni un punto di riferimento a livello internazionale per la ricerca nei campi dell'energia e dell'ambiente. Il prossimo 14 ottobre, a ricevere il riconoscimento al Quirinale direttamente dalle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ci sarà pure il gelese Orazio Locchiano, che assieme a Filomena Castaldo e Alessandro Riva verrà premiato nella sezione Riconoscimento all'Innovazione ENI, che elegge i progetti più rivoluzionari sviluppati da ricercatori e esperti tecnici ENI. per la soluzione tecnologica della biofissazione dell'anidride carbonica ultraintensificata, basata sulla biofissazione della stessa anidride carbonica da parte di microalghe, in foto bioreattori illuminati con una luce artificiale adatta alla loro fotosintesi. Un progetto che rilancia l'economia circolare attraverso la trasformazione di un prodotto di scarto per la realizzazione di biomasse. Grande soddisfazione per il giovane gelese che il 14 ottobre volerà a Roma per ricevere il riconoscimento. In genere ricevere un premio fa sempre piacere, ma l'importanza di questo riconoscimento che arriva da una commissione scientifica di alto livello e delle più alte cariche istituzionali ha suscitato in me e in tutto il team un'emozione unica. Non ti capita tutti i giorni regarti al Quirinale per ricevere un premio alla presenza del Presidente della Repubblica. È un risultato che appaga i sacrifici fatti lontano dalla famiglia. È un premio che arriva grazie a un lavoro di squadra, direi una grande squadra, quella di ricerca e sviluppo, che si avvale anche di competenze prestigiosi di università e start-up italiane. L'ENI Award ha lo scopo di promuovere un migliore utilizzo delle fonti energetiche e stimolare le nuove generazioni di ricercatori nel loro lavoro, a testimonianza dell'importanza che la stessa ENI attribuisce alla ricerca scientifica e all'innovazione, un riconoscimento che per Orazio arriva al termine di un lungo percorso di ricerca e di sviluppo. Tra le esperienze più importanti penso che c'è stata l'esperienza di una gestione operativa, di un impianto sperimentale a Ragusa. Diciamo che sono stati i primi passi verso la ricerca per poi mettermi in gioco e trasferirmi a Novara in un centro ENI per le energie rinnovabili e l'ambiente. In entrambi i casi direi che sono stato molto fortunato perché ho incontrato in questo percorso delle persone meravigliose, delle persone che mi hanno dato molta fiducia, mi riferisco ai colleghi di ricerca e sviluppo, e insieme abbiamo messo in pratica il congetto di squadra. In poco più di dieci anni ENI Award è diventato ben più di un premio aziendale, grazie a una storia che attraversa cinque continenti e le vite di decine di ricercatori. È stato istituito nel 2007 ed è quindi un premio relativamente giovane, ma è già diventato un appuntamento fisso per il mondo della ricerca applicata al settore energetico. Un grande orgoglio per il giovane professionista gelese. È un progetto importantissimo, ho creduto tantissimo in questo progetto fin dal primo giorno. Non mi aspettavo assolutamente di raggiungere questo traguardo, non vi dirò mai di ringraziare tutti i colleghi di ricerca e sviluppo per l'opportunità che mi è stata data e per tutto il lavoro svolto insieme.